Benvenuti e ben ritrovati a questo secondo appuntamento che vede Enartis da una parte e Wine Marketing Italia, Wine Me Up dall'altra unire le forze a sostegno dei produttori di vino italiani e degli enologi. Abbiamo dato avvio a questo progetto formativo, io sono Roberto Cooper Bortolussi, questi sono tutti quanti i miei dati di contatto e sono il fondatore di Wine Marketing Italia, ovvero la prima e più grande community in Italia che vede l'unione di tutti quanti i produttori di vino. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di fornire tecniche e strategie vincenti ai produttori di vino in maniera tale che possano essere e rimanere competitivi sul mercato. Grazie all'importantissima collaborazione con Enartis abbiamo dato vita a questo ciclo formativo suddiviso in quattro lezioni. La prima, che è già disponibile, ha trattato il tema della vendita diretta al privato e dell'enoturismo. La seconda, che è oggetto di questa lezione qui, è un tema molto attuale, ovvero quello dell'e-commerce e della vendita a distanza di vino. Parleremo poi anche di Wine Packaging strategico e poi anche di Social Network del Vino con un particolare focus su Facebook ed Instagram. Ma non perdiamo tempo e introduciamo immediatamente l'argomento della puntata di oggi, della lezione di oggi, ovvero l'e-commerce e la vendita a distanza di vino. Oggi più che mai è un tema attuale, è un tema molto caldo, soprattutto in questo clima di emergenza dovuto alla crisi coronavirus. Quindi cercheremo di fare un pochettino di chiarezza su questa tematica perché, a detta di molti, potrebbe essere una delle soluzioni e una delle grandi opportunità sia per il prossimo futuro che poi anche per gli anni a venire. Voglio, ci tengo a metterti di fronte a un dato di fatto e farti questa premessa. Andati a spiegare che esistono ben tre possibilità per fare e-commerce attualmente per un produttore di vino. La prima è quella di affidarsi a grandi piattaforme di e-commerce. Quindi a grandi società, possiamo pensare a Tannico che attualmente è l'e-commerce più grande in Italia, quindi affidarsi a queste grandi società per vendere il proprio vino online. Ne vedremo dopo pro e contro di tutte quante queste tre possibilità. La seconda possibilità è un pochettino una soluzione ibrida che a me piace chiamare vendita diretta a distanza. Scenderemo un pochettino più nel dettaglio nel corso della lezione. E la terza ed ultima possibilità invece è investire e creare il proprio e-commerce proprietario, quindi il proprio e-commerce aziendale. Cercherò di fare chiarezza anche nel corso della lezione su quelle che sono le soluzioni. migliori anche in base a quella che è la dimensione aziendale, perché possiamo identificare tre campionati, tre categorie di produttori di aziende, ovvero le piccole aziende, le medie aziende e poi le aziende di grandi dimensioni. Chiaramente per ciascuna di queste tre categorie che giocano in campionati completamente differenti tra di loro, ci sono delle soluzioni che vanno meglio, che vanno peggio, oppure l'iter può cambiare ovviamente in base alle condizioni di partenza. Voglio iniziare andando a leggere un pochettino di numeri per cercare di capire ad oggi, 2020, quanto vale il mercato dell'e-commerce di vino italiano, quanto vale il commercio online di vino, perché ovviamente prima di entrare in un mercato, prima di inserirsi in un canale di vendita, è bene ovviamente anche andarlo a studiare un pochettino, ad analizzare dall'esterno. Per fare questo mi avvalgo dell'aiuto di questi numeri, che sono numeri pubblici, la fonte è il bellissimo sito di Marco Baccaglio, numeridelvino.it, che vi consiglio di consultare, perché Marco Baccaglio riesce veramente ad analizzare e a dare anche degli spunti interessanti proprio partendo dai numeri, che è la cosa migliore da fare. I numeri sono oggettivi, i numeri parlano chiaro, e quindi da lì insomma che bisogna estrapolare le interpretazioni e poi fare delle valutazioni, senza partire diciamo da supposizioni che chiaramente possono essere viziate da condizionamenti soggettivi. Quindi, che cosa ci dice questo schemino? Che rappresenta il fatturato dei principali operatori e-commerce di vino italiano dal 2014 al 2018. Innanzitutto vediamo che Tannico è il principale protagonista, perché nel 2018 è arrivato a fare quasi 15 milioni di euro di fatturato ed è ancora in crescita. Ovviamente abbiamo i dati fino al 2018, ma anche nel 2019 ovviamente sono state fatte delle dichiarazioni per cui il fatturato è aumentato ancora moltissimo. E poi a ruota ci sono tutti quanti gli altri. E diciamo che il fatturato di queste aziende, di queste piattaforme è in crescita praticamente per tutte e lo possiamo notare da questo schemino. In totale nel 2018, fine 2018, il consultivo è stato che l'e-commerce di vino italiano vale circa 50 milioni di euro. Non abbiamo ancora i dati diciamo ufficiali, ma sulla base di quelle che sono state le recenti dichiarazioni, posso stimare che nel 2019 abbiamo assolutamente aumentato la cifra e siamo arrivati a circa 70 milioni, 70-80 milioni nel 2019. E chiaramente questi numeri prendono a riferimento solamente le grandi piattaforme, ma per quale motivo? Prima di tutto perché non sono ancora tante, anzi sono veramente pochissime le aziende, ma in realtà di un po' tutte le dimensioni, sia piccole che medie che grandi, ho fatto prima la distinzione ad investire nella vendita online di vino ad oggi. E poi perché appunto i loro dati ovviamente non sono pubblici, quindi non possiamo fare delle valutazioni proprio precise, quindi al netto ovviamente di tutto ciò che riguarda le singole aziende. E questo è anche un dato fondamentale, che ci dice che sì, alcune grandi piattaforme stanno crescendo, ma in Italia sono in realtà ancora pochi quei produttori, quelle aziende che hanno investito nell'e-commerce in maniera diciamo autonoma, internalizzando questo tipo di canali di vendita. Sulla base dello schemino e dei dati che vi ho fornito, sempre sui numeri del vino.it, Marco Baccaglio commenta in questo modo. Le vendite crescono in modo molto sostenuto, in media circa del 45% nel 2018, per l'insieme del campione considerato, quindi dell'azienda che abbiamo preso riferimento, ma i margini restano piuttosto limitati, intorno al 23% in media. Nella maggior parte dei casi, se parliamo di vino 75, Tannico, Design Wine, il margine sulle vendite è ancora largamente insufficiente a coprire i costi operativi, personale, servizi, ammortamenti, eccetera. E quindi nonostante un visibile miglioramento del livello del magazzino, possiamo concludere che molte delle aziende da cui compriamo vino online hanno ancora da crescere, prima di poter creare valore per chi ci ha investito. Io mi trovo assolutamente d'accordo, anche perché è assolutamente oggettiva questa come analisi, come visione di insieme. Questo ci dice e mi porta a fare una considerazione, ovvero a me piace essere molto trasparente con i produttori di vino, con i nostri clienti, anche quando facciamo le consulenze con i nostri clienti, produttori di vino in tutta Italia, ci teniamo ad essere molto onesti, molto trasparenti, e ovviamente a riportare quello che è lo stato reale delle cose, delle situazioni. E quello che vi devo dire sul commercio online, sull'e-commerce del vino, a differenza di magari quanto possono millantare altre persone, che in realtà avere, aprire, gestire un negozio online, prevede le stesse difficoltà di un negozio fisico, di un'attività fisica. Anzi, di più, perché a tutte quelle difficoltà normali di un'attività fisica, si va ad aggiungere quella che è la barriera tecnologica. Mi spiego meglio, cioè la burocrazia che c'è dietro, insomma l'apertura di un negozio online, magari forse non troppo gli investimenti, poi parleremo anche di costi per aprire un e-commerce, ma tutte le altre difficoltà, le problematiche normali di un'attività fisica, le riscontriamo anche nell'apertura di un e-commerce. In più però abbiamo la barriera tecnologica, che è quindi un requisito in più, insomma nulla di, se vogliamo, stratosferico, si può imparare tutto ovviamente, ma è bene saperlo che ovviamente per gestire anche un e-commerce online, un negozio online, bisogna ovviamente conoscere nuove piattaforme, nuovi strumenti, avere diciamo delle abilità aggiuntive. Quindi questo ci tengo ovviamente a metterlo in chiaro fin da subito. Andiamo avanti analizzando la situazione dell'e-commerce del vino in Italia ad oggi. Guardando quelli che sono in margine sul fatturato, che Baccaglio, sempre del numeri del vino punto it, ci ha detto essere in calo. E questo ovviamente sono, queste sono ovviamente lo schemino con i numeri precisi sugli operatori e-commerce che abbiamo preso in esame. E quindi questo ci fa capire che non è uno scherzo fare e-commerce online, perché come ho detto anche in apertura, non si tratta di aprire questo shop online e automaticamente le persone, i clienti si riversano ad acquistare, perché ci sono tante cose da tenere in considerazione. Prima fra tutte l'abitudine delle persone ad acquistare il vino online, seguendo questo canale, questo nuovo canale di vendita. Dovete sapere che cambiare le abitudini delle persone è una delle cose più difficili da fare. E a volte non accade se non quando c'è proprio un passaggio generazionale, se vogliamo. E quindi bisogna tenere in considerazione queste cose. Cioè ciò che può essere positivo, facilitante e da un certo punto di vista un'opportunità per le aziende, non è detto che ovviamente sia visto in maniera così positiva dal punto di vista dei clienti. Quindi dobbiamo sempre andare a tenere in considerazione entrambi i pesi. Quindi ciò che è bene per le aziende, ma soprattutto ciò che è bene anche per i clienti. Se no le aziende possono commettere l'errore di essere troppo in anticipo. Quindi anticipare troppo i tempi non è insomma non è sempre sempre positivo. Bisogna avere il giusto tempismo piuttosto. Quindi questo è fondamentale. A meno che ovviamente aziende di questo tipo, alcune aziende, prendiamo sempre l'esempio di Tannico, sono partiti già da diversi anni nell'e-commerce, del vino, ci hanno creduto molto, ok? Però in realtà ancora oggi Tannico è una società che sta facendo innovazione però perde ancora oltre un milione e mezzo di euro all'anno. Questi sono i dati presi dai bilanci pubblici, in particolare questo qua è uno schermino tratto da reportaziende.it ci fa vedere che dal 2016 al 2018 il fatturato di Tannico è cresciuto tantissimo cioè da 6,81 milioni di euro a 14,72 milioni di euro ma in realtà l'utile non c'è stato anzi c'è stata una perdita che è in costante e in progressivo aumento quindi aumentano le perdite nonostante il fatturato cresca e questo perché? Perché fare e-commerce appunto prevede anche massicci investimenti in advertising in personale tutto quanto uno staff tutto lo staff che c'è dietro Tannico sono veramente tantissime persone stipendi da pagare strutture da pagare e poi ci sono anche gli investimenti pubblicitari di advertising online principalmente che sono anche quelli molto ingenti senza di quelli però non si riuscirebbe insomma a raggiungere questo queste tipologie di fatturato no? Però chiaramente Tannico magari lo può fare perché è una grande società e ha ricevuto anche tanti round insomma di investimenti e quindi è un'azienda che è stata finanziata fa magari gioco un altro campionato magari rispetto soprattutto alle piccole e medie imprese le piccole e medie aziende e quindi si è potuto permettere di anticipare così tanto il mercato no? Chiaramente da questa progressione da questo aumento non solo di Tannico ma anche degli altri operatori del fatturato quello che possiamo imparare è che sicuramente la tendenza delle persone a acquistare il vino online è un trend in crescita e quindi ovviamente questo può mettere in moto tutta una serie di meccanismi molto molto importanti che può guidare le scelte delle aziende di voi produttori di vino di tutte quante le dimensioni da qui in poi facciamo ancora un focus sulle grandi piattaforme andiamole a vedere con i raggi X è sempre molto importante riuscire ad interpretare quello che fanno i loro movimenti le loro strategie per capire se per le vostre aziende possono essere una soluzione un canale interessante oppure no chiaramente ogni situazione è specifica ogni azienda ha le sue peculiarità ha i suoi canali di vendita ha la sua struttura alcune aziende non hanno dipendenti sono molto piccole altre aziende invece hanno una struttura anche proprio a livello di personale già più organizzata quindi chiaramente ciascuno di voi deve poi prendere delle decisioni sulla base di quella che è la sua situazione di partenza quindi andiamo a vedere sulla base di quello che abbiamo detto i fatturati di queste grandi piattaforme sono in forte crescita dall'altra parte però i bilanci sono anche in forte perdita quindi questa è una considerazione che ci deve far riflettere se loro non sono in grado di generare del profitto perlomeno attualmente vendendo online quali potrebbero essere le cause di questo eventualmente non hanno abbastanza margini oppure ritornando al discorso che abbiamo anche fatto prima avere un e-commerce non è uno scherzo ma richiede diverso impegno richiede una strategia fatta ad hoc e ripeto loro magari possono permettersi di esporsi così tanto finanziariamente per tutta una serie di motivi però magari la tua azienda non può e quindi deve battere magari delle altre strade queste piattaforme magari possono permettersi di fare della vendita aggressiva andando a lavorare su delle strategie di offerte di promozioni con forti sconti nel tuo caso probabilmente questo non puoi non puoi farlo punto numero due di questi raggi sulle grandi piattaforme ovvero che vendono anche vini stranieri vini francesi spagnoli americani oltre anche ad altre tipologie di prodotti quindi quei famigerati 50 milioni circa di cui abbiamo parlato che il volume d'affari ovviamente stimato alla fine del 2018 che fine 2019 sicuramente è più alto però bisogna considerare che una parte di quel fatturato chiaramente comprende anche vini non italiani anzi personalmente conosco tanti clienti che acquistano su queste piattaforme e ad esempio il loro account è pieno di ordini ad esempio di champagne quindi questo ci deve far riflettere che ok quello è il volume d'affari che generano queste piattaforme però non sono tutti imputabili ovviamente a vini ad aziende italiane vendono anche degli alcoli ci possono vendere ad esempio gin o qualsiasi altra tipologia di alcolico e quindi insomma una parte chiaramente dei punti percentuali di quel fatturato non riguardano il vino e non riguardano il vino italiano terzo punto e che molto importante è che il grosso del fatturato lo fanno con i brand molto noti quindi quello che rimane oltre al fatturato fatto con i vini stranieri di cui abbiamo parlato con gli alcoli c'è il fatturato tutto il resto anzi la maggior parte per essere più precisi di tutto il resto ovviamente lo generano con dei brand molto noti con dei produttori non per forza grandissime aziende ovviamente la maggior parte dei brand conosciuti sono di grandi aziende quindi o brand molto noti di grandi aziende oppure brand molto noti anche di produttori più piccoli però sempre produttori che magari hanno già partono già da un punto di partenza molto elevato e già da diversi anni che magari sono noti hanno una visibilità molto molto spiccata sul panorama del vino italiano ecco su queste piattaforme i clienti prediligono notevolmente notevolmente questa tipologia di acquisti e quindi reputo che bisogna interrogarsi sulla base di tutte queste informazioni che vi ho dato se queste grandi piattaforme sono la soluzione specifica la soluzione migliore per te ok sicuramente non sono la soluzione per vendere dei vini che sono sconosciuti per vendere il vino di una cantina che magari ho appena partito comunque è già da diversi anni sul mercato però non ha un brand che è ricercato attivamente da tante persone questo bisogna tenerlo in considerazione se no altrimenti non è che succede nulla di male perché queste piattaforme chiaramente nel caso in cui insomma ti pagano il vino tutto quanto e non ci sono magari dei canoni di entrata va tutto bene già è una cosa diversa nel caso in cui le offerte che ti propongono magari sono o di pagamenti dilazionati nel tempo oppure di prezzi molto bassi per le tue bottiglie oppure se ti chiedono delle fee di entrata delle fee per aderire per essere insomma pubblicati sulle loro piattaforme molto alte a quel punto io personalmente mi sento di sconsigliarle per chi ha un brand non ancora affermato così tanto sul mercato ok perché mancano proprio fisicamente materialmente le persone che lo vanno a ricercare non è automatico che se tu ti trovi su una di queste grandi piattaforme che può essere tannico piuttosto che vino 75 piuttosto che qualsiasi altra automaticamente vendi questo non succede e perché ok il vino si è lì online però nessuno lo compra non gira e quindi cosa te ne fai nel senso va bene puoi dire che il tuo vino è su quel portale piuttosto che su quell'altro però poi alla fine dei conti quello che è realmente importante sono effettivamente le vendite bisogna che ci sia qualcuno che ti acquisti questo vino e questo non accade automaticamente se tu sei caricato se il tuo prodotto è su una grande piattaforma che cosa ne penso io dell'e-commerce del commercio online di vino guardo spero che l'e-commerce del vino italiano non diventi il nuovo Amazon e questa è una mia citazione un mio pensiero questo perché perché credo che il mondo del vino italiano abbia piuttosto bisogno non di incrementare le vendite ma di incrementare il valore prima di tutto ok quindi margini di guadagno chiaramente con le dovute differenze perché piccole e medie aziende che producono un numero ristretto di bottiglie sicuramente si devono concentrare 100% su questo grandi aziende grandi gruppi ovviamente devono e possono assolutamente avvalersi anche di strategie differenti però tendenzialmente ovviamente tutte le aziende dalle più piccole alle più grandi devono lavorare sui margini di guadagno devono lavorare sul creare valore ma vi faccio un esempio molto molto pragmatico questo è un iPhone ok è il mio smartphone è un iPhone la Apple non solo è una grandissima azienda ma è anche un'azienda che lavora tantissimo sui margini ok e quindi questo è per dare anche un input anche alle grandi aziende le aziende di dimensioni più grandi che si può lavorare anche sui margini anche quando la produzione è molto elevata chiaramente bisogna adottare le giuste strategie di marketing ovviamente questo obbligatorio per i produttori di piccole e medie dimensioni perché diversamente con piccole produzioni no che possono andare dalle 10.000 bottiglie ma anche alle 100.000 se non hai margini adeguati l'azienda non va avanti e poi non avrai neanche la disponibilità economica per investire e in qualità del prodotto e quindi continuare a rimanere diciamo all'avanguardia dal punto di vista del prodotto della qualità e ovviamente dei trend che chiaramente cambieranno nel corso del tempo e non avrai soldi per investire anche in marketing comunicazione che come abbiamo visto anche nella prima puntata nella prima lezione sono due diciamo aree di fondamentale importanza che vanno a costituire quella che io chiamo la bilancia del produttore quindi da una parte la produzione il prodotto standard qualitativi alti e dall'altra invece investimenti in marketing in una corretta comunicazione quindi io spero che non diventi il nuovo Amazon perché abbiamo bisogno sia di incrementare le vendite ma anche soprattutto di lavorare sul valore sul valorizzare correttamente i nostri prodotti sia nel mercato interno ma anche poi all'estero quando si parla di export e questo ha maggior ragione se nei prossimi anni nel prossimo futuro prenderà piede il commercio online del vino così come sembra dai trend insomma di cui abbiamo appena discusso non bisogna fare in modo che questo shift di acquisti online poi si traduca come spesso accade in un assottigliamento proprio di questi margini una guerra che fa il prezzo più basso perché se no diventa veramente pericoloso perché come abbiamo visto prima anche vendere online non significa essere esenti poi da costi ok l'abbiamo visto prima ve l'ho detto prima quindi vendere online ha le stesse difficoltà gli stessi costi di una attività poi ovviamente fisica soprattutto se poi si vuole crescere vediamo dunque la situazione attuale in Italia per quanto riguarda l'e-commerce no cioè cosa stanno facendo i produttori di vino allora alcuni brand forti conosciuti vendono bene attraverso le grandi piattaforme di e-commerce e lo abbiamo già detto chiaramente il il fatturato l'abbiamo visto negli ultimi anni è in in forte crescita queste piattaforme stanno crescendo bene e quindi ovviamente questo vino è di qualcuno quindi ci sono delle aziende dei brand ok anche tra i produttori di piccole e medie dimensioni che grazie a questo canale riescono a vendere ok a vendere le loro bottiglie in maniera assolutamente soddisfacente la maggior parte dei produttori di vino però ok non investe nell'e-commerce veramente ovviamente è chiaro che sul totale sono veramente pochissimi quelli che investono sull'e-commerce sia con le grandi piattaforme sia con e-commerce proprietari chi ha chi fa e-commerce chi vende online attualmente però genera ricavi la maggior parte di loro inferiore ai 5.000 euro l'anni quindi qualcosa veramente di risibile no di ridicolo chiaramente non è un volume d'affari che consente di dire ok sono soddisfatto di questi di questi volumi quindi la maggior parte dei produttori è compresa in questo secondo punto qui ok o in una situazione di totale senza dal punto di sul canale dell'e-commerce sulla vendita digitale online oppure fa qualcosina fa qualcosina avendo esperienza anche io con la nostra società con centinaia di produttori in Italia quello che vediamo è questo quindi sono dati tratti proprio dalla nostra diretta esperienza con i produttori di vino sul campo e alcuni di loro si hanno un e-commerce alcuni fanno zero alcuni magari vendicchiano fanno mille duemila euro all'anno però ci troviamo veramente sotto una soglia assolutamente di cinquemila euro l'anno pochissimi invece perché qualcuno ovviamente c'è che magari vuoi perché hanno un brand già un pochettino più sviluppato vuoi perché hanno investito a livello anche strategico di marketing in maniera giusta negli ultimi anni facendo delle cose giuste e qualcuno che produce ricavi maggiori cinquemila euro magari anche attorno ai diecimila quindicimila ventimila euro l'anno qualcuno c'è sono però veramente pochi veramente si possono contare sulle sulle dita di una mano se vogliamo sono veramente pochi sulla totalità dei produttori totali in Italia quindi non si spinge ancora in Italia i produttori di vino italiani non hanno ancora investito in maniera massiccia sull'e-commerce quindi tanti ci stanno provando con le piattaforme con le grandi piattaforme di e-commerce perché? perché oggettivamente è un canale semplice nel senso gli paghi gli dai magari una fee e chi non ti chiede la fee ovviamente ci sono delle situazioni differenti in base alla piattaforma paghi una percentuale gli paghi una percentuale gli dai il vino gli spedisci il vino e poi loro si occupano di tutto di logistica di ordine di cliente tutto quanto quindi oggettivamente è molto semplice però è molto semplice spedire loro il vino farglielo vendere poi tutta un'altra cosa perché alle spalle ovviamente c'è bisogno che in primis le aziende lavorino sul proprio marketing quindi questa è la situazione come bisogna approcciare questo mercato questo trend perché ovviamente il mio consiglio è quello assolutamente di andarlo ad esplorare capire se può essere un'opportunità per le vostre aziende a partire da oggi soprattutto oggi che ci troviamo in questa situazione di emergenza causata dal coronavirus ovviamente no la venita a distanza gli e-commerce sono comunque temi di grandissima attualità e molto importanti vi propongo l'analisi SWOT ovvero un'analisi è un acronimo preso dalle parole inglesi che significano punti di forza punti deboli opportunità e minacce in che cosa consiste l'analisi SWOT consiste nel andare a mettere proprio nero su bianco quelli che sono i punti di forza per focalizzare l'auto azienda proprio su questi punti di forza e sono veramente i punti da cui partire su cui far leva per incrementare poi l'e-commerce e la vendita online di vino mettere poi però a fuoco anche quelli che sono i punti deboli bisogna essere onesti con se stessi e andare a capire quali possono essere le criticità per cercare di migliorarle di superarle i punti di forza e punti deboli hanno a che fare con l'interno dell'azienda quindi con quello che tu puoi anche controllare se vogliamo direttamente quello che riguarda dall'interno la tua azienda ci spostiamo poi invece sull'ambiente esterno su ciò che non è direttamente controllabile da te della tua azienda e che riguarda le opportunità e le minacce all'interno delle opportunità vai a fare proprio un elenco guardandoti attorno analizzando ciò che succede in Italia nel mondo quelli che possono essere i trend e invece le minacce comprende tutto ciò quello che invece può mettere a rischio magari in questo caso ovviamente il commercio online l'analisi di SWOT ovviamente non serve solamente per andare ad analizzare possibili opportunità del commercio online ma si può poi adattare a tantissimi anche altri usi e qui ovviamente sono semplicemente degli esempi tre punti di forza cosa ho messo ho messo ad esempio un'azienda che è un database clienti già profilato ha già i dati dei propri clienti possono essere l'email indirizzi il nome il numero di telefono e via dicendo chiaramente è un punto di forza questo è avvantaggiato poi nella creazione anche del commercio online nella creazione di un nuovo canale di vendita online se uno ha già un personale dedicato o già formato ho parlato prima delle barriere della barriera tecnologica del commercio online se all'interno della tua azienda tu o chi per esso un tuo collaboratore un tuo dipendente è già preparato su questo tema chiaramente quello è un punto di forza oppure se ci sono delle persone che velocemente possono diciamo formarsi se sei attivo sui social certamente questo è un punto di forza e lo vedremo poi anche dopo se negli ultimi anni hai fatto investimenti in marketing e vendita di diritto privato se tu hai questo tipo di investimenti in corso o li stai già facendo da diversi anni ecco che questi sono tutti quanti punti di forza punti deboli invece possono essere per contro una scarsa digitalizzazione oppure una scarsa propensione alla digitalizzazione se all'interno della tua azienda hai delle risorse allocate male se fai dei cattivi investimenti che quindi non ti consentono di aprire un nuovo canale di vendita oppure se hai una risposta lenta al cambiamento quindi se pensi sempre magari ah ma cos'è questa cosa nuova e arrivi sempre un pochettino per ultimo questi possono essere dei punti deboli all'interno della tua azienda su cui puoi lavorare per migliorare ok per ottenere poi però dei risultati se deciderai di investire nel canale e-commerce le opportunità invece possono essere da una parte ad esempio la crescita del commercial online del vino in Italia nel mondo abbiamo visto attualmente c'è un trend in crescita in Italia dell'e-commerce oppure possibilità opportunità dal punto di vista di finanziamenti aiuti che possono arrivare da enti fondi nazionali regionali europei quello che vogliamo ok quindi queste possono essere delle opportunità che agevolano ovviamente l'apertura del canale e-commerce le minacce invece possono essere che ne so un inasprimento magari delle leggi nazionali e internazionali sul commercio ok già oggi ovviamente in alcuni paesi è chiaramente difficile no fare e-commerce non impossibile se queste leggi vengono inasprite ovviamente si va si va a configurare una minaccia ok diversamente ovviamente se queste leggi se queste leggi col passare del tempo invece vengono legate cambieranno cambieranno queste leggi invece possono essere in positivo possono essere un'opportunità un'altra concorrenza può essere che ne so la concorrenza di Amazon per dire se Amazon si mettesse in maniera importante a fare anche commercio proprio di vino ecco che quella può essere una minaccia quindi l'analisi di what ti serve proprio per avere un quadro completo della situazione capire che cosa devi fare sia nell'ambiente interno e anche per andare a valutare ciò che è l'ambiente esterno perché non devi vedere solamente insomma la tua azienda ma devi capire anche che cosa succede nel mondo e questo è un po' il percorso adesso voglio scendere un pochettino più nel merito perché già degli sputti te li ho dati ma quali sono le tappe precise per avviare il commercio elettronico di vino per avviare un e-commerce e questo dal mio punto di vista è un consiglio che è un consiglio d'oro per qualsiasi tipo di azienda qualsiasi tipo di produttore di qualsiasi dimensione piccolo medio o grande bisogna essere sinceri cioè il punto di partenza non è l'e-commerce ok non dobbiamo pensare e-commerce come ho detto prima come la panacea di tutti i mali e bisogna essere onesti con se stessi e capire che il punto di partenza è la materia prima e con materia prima intendo i clienti fondamentalmente i clienti se tu non hai clienti sugli altri canali che possono essere privati Oreca Export ok se tu non hai clienti sul diciamo sulla griglia di partenza andrai in e-commerce quindi online e non avrai clienti neanche lì ok perché i clienti se non ce li hai offline o se non hai una strategia per averli offline non è andando online che vai a risolvere i tuoi problemi quindi prima di tutto hai bisogno di clienti di una strategia di marketing ben fatta questo è il punto di partenza e soprattutto questi clienti tappa numero due hai bisogno di andare ad organizzare in un database ordinato i clienti ce li hai non solo quando ti fanno gli ordini ma quando hai anche i loro dati di contatto devi raccogliere i dati dei tuoi clienti sono veramente hanno veramente un valore hanno veramente un valore per le aziende i dati dei clienti oggi che possono essere il nome l'email il telefono l'indirizzo quello che vuoi il numero di telefono ma hanno un valore se non hai un database di clienti è quasi come non averli questi clienti perché sarà difficilissimo se non è impossibile per te comunicare con i tuoi clienti quindi se sì oggi ti continuano a fare degli ordini ma qualsiasi minaccia può capitare possono andare da un concorrente possono smettere di acquistare vino per qualsiasi motivo ok e tu non hai la possibilità di comunicare con loro di rimanere in relazione con loro quindi non bisogna essere passivi aspettare che il cliente ti chiami ti faccia l'ordine e via dicendo ma ok il marketing oggi deve essere proprio bidirezionale bisogna avere una relazione con i propri clienti quindi avere un database organizzati magari in piattaforme fatte apposta magari per fare email marketing ma i clienti vanno magari anche convogliati sui propri canali social perché anche quelli sono proprio canali e strumenti per comunicare con i tuoi clienti quindi penso a facebook ad instagram principalmente quindi per i tuoi clienti clienti poi organizzati bene database quindi questo richiede già un lavoro se non hai questi punti di partenza queste sono le prime tappe per diciamo puoi pensare anche solo di passare al commercio elettronico l'etappo numero 3 ok e qui arriviamo alla seconda possibilità quella un pochettino ibrida di cui ti ho parlato all'inizio di fare commercio elettronico il consiglio che ti do è di iniziare dalla vendita diretta a distanza sai già benissimo ne ho anche parlato nella prima lezione quanto io sia un diciamo un fan della vendita diretta al privato ecco che questa vendita diretta al privato non può cioè non deve essere pensata solamente come una vendita offline ovvero le persone che ti arrivano in cantina perché perché attraverso la raccolta dei loro dati poi noi siamo in grado di riuscire a comunicare con questi clienti che magari la prima volta ci hanno conosciuto in cantina dal vivo ok stringendoci la mano e facendo una degustazione dal vivo con noi ma dal loro secondo acquisto perché ovviamente noi dobbiamo mantenere il rapporto con i clienti possono acquistarci del vino a distanza anche senza avere una piattaforma subito professionale di commerce ma possono acquistarcela in diversi modi adesso poi li andremo a vedere nel dettaglio però a distanza e quindi già sfruttando una tecnologia online quindi ordini diretti di nuovo a distanza e questo è veramente molto molto importante e a distanza possono comprare da noi non solamente i clienti privati ma anche i clienti dell'oreca perché no ok quindi magari i clienti che hanno delle altre attività quindi questo perché te lo dico perché prima di fare investimenti rischiosi ok devi cercare di fare dei test sulla tua azienda testa la tua audience testa i tuoi follower testa i tuoi clienti no partendo dal tuo database e procedi solamente alla tappa successiva quando avrai ottenuto già dei risultati perché così avrai già seminato bene avrai già un punto di partenza se no rischi di fare come quei pochi perché per carità ad oggi ancora non ce ne sono tantissimi produttori che hanno investito in un e-commerce che hanno investito magari anche migliaia di euro però in realtà hanno una piattaforma lì che è completamente bloccata cioè che non produce ricavi che non produce vendita fondamentalmente quindi vai a sviluppare arriva ad un volume critico di ordini a distanza e solamente dopo investi in un tuo e-commerce proprietario quello è l'ultimo step è l'ultima tappa da cui poi inizia tutto inizia lo sviluppo proprio di questo e-commerce però prima anche solo di pensare questo perlomeno è il consiglio che diamo e che do io ai nostri clienti che ci tengo veramente a dare a voi sviluppate questo processo questo processo deve essere graduale non è tac subito e-commerce valuta prima magari alcune di queste tappe tu le hai già fatte e quindi ti trovi già non è che per forza di partire dalla tappa numero uno ci sono noi lavoriamo con realtà di diverso tipo ci sono quelli che hanno appena aperto anche l'azienda agricola hanno cominciato a fare vino ieri ma ci sono anche le aziende che sono già avviate che già magari hanno investito in maniera corretta in marketing e che quindi un database di clienti ce li ha che dei test magari di vendita a distanza ce li ha e quindi cerca di capire tu a che fase di questo percorso ti trovi e in base a quello prendi le tue decisioni però questo ovviamente è il percorso che io consiglio di fare assolutamente questo è il mio consiglio e quali sono i canali per fare questa famigerata vendita diretta a distanza che è lo step precedente ad avere proprio un e-commerce una piattaforma professionale dedicata e tu puoi ricevere se ci pensi ordini da tantissime piattaforme puoi ricevere ordini da instagram direttamente in direct puoi ricevere ordini da facebook no direttamente in messenger ma puoi sfruttare anche whatsapp no per produrre degli ordini uno strumento molto valido sono le liste broadcast oppure puoi ricevere ordini anche direttamente via email con i tuoi clienti oppure utilizzando anche già delle piattaforme più professionali come ad esempio piattaforme di email marketing penso ad active campaign mailchimp e compagnia bella quindi il mio consiglio è proprio questo parti da qui parti snello inizia un percorso graduale ok e arriva a questo volume critico a questa massa critica di ordini generati da queste piattaforme su cui già devi investire cioè se non investi su queste piattaforme inutile andare ad investire su un e-commerce perché se non hai tempo di dedicarti a queste piattaforme non avrai tempo sicuramente neanche di investire in e-commerce questo lo potrei fare sia a livello organico ma anche sulle piattaforme penso sulle social anche facendo delle campagne a pagamento però gestendo tutto quanto attraverso diciamo le piattaforme social quindi fai delle campagne ad hoc e ricevi direttamente gli ordini via messenger via privato perché i primi ordini ovviamente se non sono tanti puoi gestirli assolutamente in questo modo tra virgolette semi-automatico semi-manuale se vogliamo poi quando arrivi alla massa critica dici bene io voglio allora andare a organizzare tutto quanto un po' meglio voglio una piattaforma dedicata voglio una piattaforma professionale voglio magari anche un qualcosa che mi permetta di automatizzare determinati processi però sono step a cui si arriva solo col tempo perché in realtà devo essere sincero c'è un e-commerce fatto come si deve per un produttore di vino dovrebbe anche avere la possibilità di parlare di dialogare con il magazzino per avere accesso magari alle rimanenze quelle che sono le disponibilità di bottiglie di prodotto per essere effettivamente un e-commerce adeguato automatico oppure ancora un e-commerce dovrebbe poter dialogare con il software esempio di fatturazione in maniera tale che arrivato l'ordine tutto il processo anche di fatturazione sia automatico cioè la tecnologia in realtà ci deve poi snellire le cose ci deve facilitare il lavoro non complicarcelo ovviamente e darci diciamo l'accesso a nuove opportunità però per fare questo chiaramente non è che lo si fa così con uno schiocchio con uno schiocco di dita ma ci si arriva pian piano chiaramente però vi dico questo perché in realtà i casi di studio che abbiamo portato avanti con produttori in tutta Italia e anche di tantissime situazioni differenti dimensioni differenti tipologie di vini differenti sono tutte quante estremamente vincenti sia prima diciamo di questa situazione coronavirus c'erano già diversi nostri clienti a cui non abbiamo consigliato di investire in un e-commerce per spendere solamente soldi per non essere ancora pronti a livello di mentalità a livello di azienda prima hanno cominciato a produrre risultati vendendo vino a distanza attraverso i canali di cui ti ho parlato prima Instagram Facebook Whatsapp email ok prima hanno fatto questo prima hanno investito magari in nuovi canali hanno iniziato a gestire meglio i loro clienti privati l'oreca l'export acquisendo un database di contatti e poi si sono hanno iniziato a tuffarsi diciamo nell'ibrido nel commercio elettronico ibrido che abbiamo chiamato vendita diretta a distanza e anche in questo in questa situazione diciamo di emergenza coronavirus ecco che chi aveva avviato questo processo o chi lo sta avviando in maniera corretta anche ora perché c'è ancora tanto spazio sta producendo dei risultati veramente incredibili veramente pazzeschi vendendo centinaia se non addirittura migliaia di euro al giorno di vino alcuni hanno addirittura triplicato le loro vendite rispetto a prima quindi è vero sicuramente è una situazione di emergenza quella che ci troviamo ad affrontare oggi ok col coronavirus e onestamente ovviamente non si sa esattamente quale che cosa riserverà il prossimo futuro e come cambieranno come evolveranno esattamente le cose però quello che possiamo fare è analizzare in maniera lucida la situazione capire che al momento c'è un'opportunità e con molta probabilità sarà un'opportunità anche per il futuro e allora possiamo investirci e investirci nella maniera più corretta possibile i casi di successo sono veramente tantissimi produttori ma anche proprio piccoli medi e grandi che stanno investendo nella vendita di detta distanza e stanno ottenendo dei risultati incredibili senza neanche senza neanche aver investito cifre enormi per la realizzazione di un e-commerce e la relativa gestione ci arriveranno però ci arriveranno noi stessi abbiamo in corso la realizzazione di diversi e-commerce perché perché c'è qualche cliente già maturo che adesso ovviamente deve passare allo step successivo arrivare alla tappa successiva di cui abbiamo parlato prima e quindi avere una piattaforma proprio dedicata però devi capire tu esattamente dove ti trovi in questo percorso anche perché devi poi tenere in considerazione che l'e-commerce va coltivato e qui ti arrivo a spiegare come mai fare e-commerce ovviamente richiede anche proprio dell'impegno e richiede anche pazienza proprio come la richiede il lavoro in vigna quindi il lavoro in vigna non è che tu fai un nuovo impianto e automaticamente la produzione è a regime iniziano a produrre e puoi incrementare la tua produzione anche il canale online va coltivato abbiamo visto che i trend diciamo generali del settore sono in crescita però poi tu ovviamente ognuno deve fare i conti con la sua situazione specifica e pensare ovviamente alla sua azienda ok quindi questi sono ovviamente numeri e stime numeriche puramente indicative no però dall'anno 1 da quando hai una piattaforma effettiva di e-commerce quindi il consiglio che ti do è sempre magari partire da una vendita diretta a distanza e poi fare un e-commerce perché perché se no è molto più difficile però facciamo il caso di un'azienda che decide di investire l'anno 1 in un e-commerce devi prevedere che ci sono anche dei costi di advertising qui l'ho indicata con ADV l'advertising che cos'è? niente po' di meno che la pubblicità online specialmente soprattutto canali come Google Ads o Facebook Ads quindi queste sono diciamo le principali piattaforme di advertising online e dovete sapere che sono fondamentali per fare e-commerce e per lanciare un e-commerce senza investimenti in advertising non l'e-commerce non parte fondamentalmente ok questi 2.000 euro ho detto che le stime sono assolutamente indicative però diciamo che in realtà questi 2.000 euro hanno un senso di fondo e tendenzialmente un po' il minimo che a prescindere dalle dimensioni aziendali anche per i piccoli è la cifra che va investita diciamo nell'arco dei primi 12 mesi da quando uno decide di fare e-commerce quindi diciamo che bisogna tenerlo in considerazione grazie a questo che cosa si può produrre nell'anno 1 ad esempio 50 clienti si può andare a verificare poi la fine dell'anno dei primi 12 mesi che l'ordine medio è stato di 100 euro e che quindi i ricavi totali sono pari ammontano a 5.000 euro questa può essere diciamo una potenziale situazione di un produttore di vino che si approccia all'e-commerce nel primo anno l'anno numero 2 si può incrementare magari l'investimento la spesa in advertising raddoppiandola magari a 4.000 euro andando ad ampliare quello che è il portafoglio clienti arrivando a 200 clienti e andando magari a fare anche dei miglioramenti delle ottimizzazioni sul sito o curando meglio le relazioni con i clienti portando a crescere anche l'ordine medio quindi lo scontrino medio per singolo cliente quindi magari portandolo a 115 euro che moltiplicati per i 200 clienti portano i ricavi totali alla fine del secondo anno a 23.000 euro quindi abbiamo già visto una crescita cioè questo è il concetto ovviamente vi ho detto le stime numeriche sono puramente indicative però è questo quello che va ad accadere fondamentalmente se uno lavora bene fino ad arrivare ad esempio alla conclusione del primo triennio di e-commerce dove sono 6.000 e 6.000 il budget stanziato per l'advertising i clienti sono intanto arrivati a 800 l'ordine medio è arrivato e cresciuto a 120 euro e i ricavi sono quasi pari a 100.000 euro ovvero a 96.000 euro ok questa è la crescita che bisogna avere ma questa crescita tra l'altro va in parallelo se facciamo e-commerce quindi vendiamo online a privati va in parallelo anche alla vendita direttamente al privato in cantina perché più continuerai ad investire anche in quel canale più il tuo e-commerce crescerà velocemente e quindi magari i numeri che hai dato qui potranno crescere ancora più velocemente tutto dipende ovviamente anche da come continuerai a sviluppare gli altri canali perché i canali non è che uno esclude l'altro all'interno di un'azienda sono integrati fra di loro e quindi e diciamo e il loro collegamento no e il loro e il dialogo tra i vari canali che permette ad un'azienda di crescere nella maniera più sana possibile quindi questo è diciamo uno scenario normale ok di un'azienda che decide magari da zero di andare ad investire in un e-commerce saltando anche il passaggio prima ovvero quello della vendita diretta a distanza ok e questo è già un percorso virtuoso ma perché perché già uno mette in previsione ok crea un e-commerce ma poi ci sono questi 2.000 euro questi 4.000 euro questi 6.000 euro nel terzo anno che vanno investiti in advertising quindi uno non può eludersi di aprire un e-commerce e di non investire in advertising quindi la maggior parte delle aziende che ha investito in e-commerce e che non ha ottenuto risultati anche se magari l'ha fatto due tre anni fa perché alcune ce ne sono l'abbiamo visto prima e che non hanno investito o non hanno investito o non hanno investito correttamente in advertising oppure il loro sito sì c'è è un e-commerce ma non è costruito secondo le regole del marketing fondamentalmente quindi non è stato fatto bene perché anche la piattaforma non basta averla ma deve essere ovviamente decente io vedo purtroppo che questi pochi che hanno un e-commerce alcuni lo promuovono per carità innanzitutto con delle cifre inadeguate ma poi ti fanno atterrare su delle pagine su questi e-commerce che non sono assolutamente ottimizzati per vendere non ti fanno venire voglia di vendere quindi non funzioneranno mai a prescindere poi dalla cifra che andrai ad investire in advertising anche perché questi duemila euro ad esempio ipotetici dell'anno uno non è che uno li deve investire subito no? sono graduali sono spalmati su dodici mesi se uno ha una piattaforma che funziona una strategia dietro che funziona ecco che tu spenderai i primi duecento ma magari hai già fatto poi delle vendite quindi ci sei rientrato quindi non deve spaventare questo però bisogna sempre avere questo approccio imprenditoriale senza investimenti senza la benzina ok? non si va da nessuna parte questo ci tengono che sia chiaro ok? e ovviamente ovviamente per facilitare questo processo e per sviluppare l'e-commerce il mio consiglio che ti ho detto prima in realtà è quello di passare per la situazione ibrida della vendita diretta a distanza questo perché? perché qui nell'anno uno ti ho ipotizzato un 5.000 euro di ricavi ma se tu sei bravo a fare vendita diretta a distanza ok? senza neanche un e-commerce quella cifra la puoi raggiungere o addirittura superare puoi arrivare a 5.000 a 10.000 o a 15.000 in base anche ovviamente alla tua azienda di euro prodotti della vendita diretta a distanza a quel punto partirai col tuo e-commerce quindi intanto è quello zoccolo duro che semplicemente da cui semplicemente la smetterai di ricevere ordini un pochettino più macchinosi anche se lì ci sono delle strategie per automatizzare i processi e per perdere meno tempo smetterai di ricevere ordini da Instagram da Facebook da Whatsapp e li diciamo li sposterai sul tuo e-commerce quindi ottimizzerai proprio anche il tuo il tuo tempo da lì in poi sarà tutto quanto di guadagnato perché andrai a far crescere semplicemente i tuoi clienti è come se magari questo anno uno al posto di investirlo in un e-commerce già completo lo vai ad investire nella vendita diretta a distanza quindi questo secondo me è la logica e il consiglio migliore che vi posso dare a meno che voi non siate già una grandissima azienda che non ha problemi di budget allora a quel punto il discorso magari va a decadere e si parte immediatamente con una piattaforma già subito professionale adeguata per fare e-commerce al 100% voglio rispondere ora ad una domanda che in realtà mi fanno moltissimi così cerchiamo di chiarire una volta per tutte questo discorso e qual è la mia visione che prezzi fare online che prezzi fare online è molto semplice gli stessi che pratici che pratichi in cantina quindi non farti troppi problemi online sul tuo e-commerce e in realtà nel caso in cui ti affidassi anche a grandi piattaforme ovviamente lo devi dire anche a loro devi avere una coerenza di prezzo quindi sull'e-commerce ovviamente si mette un prezzo già comprensivo di IVA dedicato al consumatore finale quindi al cliente privato e quindi i prezzi che fai in cantina a mio avviso dovrebbero essere identici a quelli che fai online anche perché devi dare la possibilità alle persone ai tuoi clienti che magari sono venuti in cantina di acquistare lo stesso vino allo stesso prezzo poi ovviamente magari ci saranno delle spese di spedizioni o non ci saranno sopra una certa soglia la strategia poi dell'e-commerce anche quello è un tema molto importante però lo dovrai valutare tu in base a quello che è la tua dimensione aziendale le tue possibilità e le tue partnership con i fornitori però i prezzi veramente non c'è da discutere i prezzi devono essere gli stessi che pratichi in cantina fine fine anche poi per non andare in conflitto per chi ne ha con clienti enotecari o con altre situazioni che si possono verificare è molto semplice prezzi che hai in cantina semplicemente li copi e li incogli online fine quando vai modificare un prezzo in cantina lo modifichi anche online quando modifichi un prezzo online lo vai modificare in cantina e viceversa ok quindi io la risolvo veramente molto facilmente in questo modo e dovresti farlo anche tu cioè perlomeno questo è il mio consiglio ok siamo arrivati a capire invece adesso come fare un e-commerce ci sono diverse possibilità per realizzare proprio nel concreto un e-commerce adesso abbiamo parlato di tante cose ma adesso ti voglio anche proprio presentare quelle che sono le opportunità che offre la tecnologia per realizzare concretamente un e-commerce questa è la possibilità numero uno ovvero quella di andare a creare un e-commerce integrando tra di loro due strumenti da una parte Wordpress che serve anche per creare i propri siti istituzionali siti normali tanti produttori in realtà hanno basano già i loro siti sulla piattaforma Wordpress quindi c'è già e andandogli ad installare sopra no e-commerce che è proprio la funzionalità che permette di creare o di aggiungere nel caso di un sito già esistente la parte di e-commerce quindi questo significa che ci sono due alternative per uno che ha un sito già in Wordpress ad esempio soprattutto che se è già un sito ben fatto che è a posto e non ha ancora un e-commerce puoi installarglielo ok quindi tra virgolette diventa anche molto diventa anche più semplice se invece devi rifare completamente il tuo sito anche se è già fatto in Wordpress ma non è corretto oppure se è fatto in altre piattaforme che non vanno bene ecco che unendo queste due funzionalità Wordpress più e-commerce puoi andarti a creare un e-commerce che funziona veramente molto bene passiamo ora alle possibilità numero due vi presento queste due soluzioni da una parte Magento e dall'altra Prestashop entrambi sono delle piattaforme open source per fare e-commerce quindi che fondamentalmente non costano diciamo per aprire per fare pronti partenza via poi ovviamente ti vendono dei plugin delle funzionalità aggiuntive avanzate che sono a pagamento sia Magento che Prestashop sono specializzate proprio sull'e-commerce sono proprio delle piattaforme per fare solo siti e-commerce fondamentalmente e quindi comunque sono assolutamente molto valide anche queste no io le consiglio ovviamente poi uno deve decidere tra le varie situazioni tra le varie anche possibilità aziendali qual è la scelta migliore per per ciascuno ok diciamo che Magento e Prestashop essendo delle piattaforme specifiche per e-commerce possono andarsi anche ad integrare ad un sito già preesistente perché ovviamente un produttore di vino non può avere solamente e-commerce deve avere anche una parte tra virgolette istituzionale dove va a presentare la sua azienda si possono andare magari ad innestare su dei sottodomini creando appunto la parte dedicata invece al commercio online un discorso simile si può fare per Shopify invece che è un'altra piattaforma anche qui specializzata per fare e-commerce l'ho messa a parte da Magento Prestashop perché è un pochettino diversa Shopify è una piattaforma che in realtà semplifica anche molto se vogliamo l'e-commerce solo che ha anche delle logiche un pochettino differenti innanzitutto prevede dei costi dei canoni periodici per diciamo avere uno shop avere un e-commerce su Shopify e poi anche qui ci sono tanti plugin tante funzionalità aggiuntive che anche queste sono a pagamento quindi questo è quanto è un po' più diciamo macchinoso magari complicato da andare ad innestare ad un sito già preesistente o comunque bisogna studiarsela studiarsela bene dal punto di vista strategico intendo dal punto di vista tecnico alla fine si può fare si può fare veramente di tutto però appunto è anche un'opportunità che vi voglio di cui vi voglio assolutamente informare diciamo che pronti partenza via è un po' più costoso ovviamente degli altri dal punto di vista magari di un canone di un canone periodico nel tempo arriviamo anche a questa domanda fatidica ovvero quanto costa un e-commerce qua diciamo che allora i numeri sono ovviamente basati su quella che è la mia esperienza e sono ovviamente suscettibili poi di situazioni specifiche perché chiaramente ogni situazione poi può avere delle sue particolarità diciamo che tendenzialmente la maggior parte dei casi può rientrare in queste cifre che io vi vado a dire sicuramente le voci principali che vanno a costituire il costo di un nuovo di un e-commerce per un produttore di vino sono la realizzazione l'advertising di cui abbiamo parlato prima che è un po' la benzina che permette di far partire un e-commerce e poi anche ovviamente c'è la manutenzione la realizzazione diciamo che varia tra i 3.000 ma si può arrivare anche tranquillamente ai 10.000 euro se non in alcuni casi anche per i siti custom però ovviamente ho tolto i casi super specifici oltre i 10.000 euro la forbice va dai 3.000 ai 10.000 euro ok questo è un pochettino più o meno la quotazione dipende da tante cose dal numero di prodotti vi dicendo è chiaro che una situazione più semplice costerà anche di meno una situazione con magari decine e decine sono centinaia di prodotti costerà di più dipende dalla dimensione aziendale dipende da quello che si vuole andare ad installare da come si vuole organizzare l'e-commerce dipende da tanti tanti fattori questo però è una grande una fascia che può dare un'idea diciamo che vi consiglio assolutamente di diffidare da coloro che vi propongono dei siti e-commerce completi al di sotto dei 3.000 euro perché ovviamente non ha insomma non ha senso e probabilmente non funzioneranno advertising vi ho detto prima anche qui può essere una cifra a caso perché se tu vedi che il tuo e-commerce ma ce ne vende andrai anche di incrementare la tua spesa e il tuo budget in advertising perché se metti 10 euro in advertising che ti producono 100 ne metterai 100 che producono 1000 ne metterai 1000 che ti producono 10.000 e così via se noti un trend se noti che i tuoi investimenti poi hanno un ritorno sull'investimento positivo incrementi le vendite attraverso l'e-commerce allora non hai scuse anzi sarai tu stesso il primo a voler magari incrementare la spesa in advertising diciamo che il punto di partenza come ho detto prima sono i 2000 euro in un anno ovviamente qui stiamo parlando diciamo di quelli che possono essere i costi un'imputazione di costi riferite i primi 12 mesi pronti partenze via per realizzare un e-commerce da zero quindi un sito che è già non esistente è chiaro che anche prima la realizzazione di 3000 euro 10.000 euro quella fascia lì ovviamente può essere un pochettino anche inferiore nel caso in cui l'e-commerce vada innestato cioè vada solo aggiunta la parte e-commerce ma in un sito già esistente chiaramente con tutte le diciamo le particolarità del caso bisogna vedere il sito già esistente come è fatto su quale piattaforma e via dicendo manutenzione diciamo manutenzione circa 500 euro poi a salire insomma dipende anche qui da tanti aspetti la manutenzione principale i costi che si possono imputare a un sito e-commerce sono ovviamente anche la gestione dell'hosting il dominio tutti i costi che riguardano proprio diciamo i costi di struttura del sito online cioè per mantenere il sito online e magari qualche intervento ovviamente di manutenzione questo è il netto poi di tutti di tutte le modifiche che si possono anche fare di ottimizzazione di un sito questi sono i costi diciamo standard poi è chiaro che se uno ogni mese vuole intervenire sul sito per migliorarlo per fare interventi custom è chiaro che i costi possono lievitare però si dà il caso che se uno procede in quel senso lì significa che l'e-commerce sta macinando quindi si tratta semplicemente di investimenti ok allora queste cifre posso mi rendo conto che ad alcuni possono spaventare ad altri invece possono non far battere ciglio quello che però ci tengo a dire è dare anche delle soluzioni a tutti in realtà su dove trovare le risorse per investire sul canale e-commerce come è meglio procedere come bisogna secondo me approcciarsi il canale e-commerce per concludere io lo trovo una grandissima opportunità e quindi è bene insomma tenerla tenerla d'occhio e quindi se non si hanno le risorse per investirci o per studiarlo bisogna trovarle in qualche modo innanzitutto lo puoi fare puoi trovare queste risorse per aumentare aumentando i margini di vendita ok e qui ovviamente le consulenze strategiche di marketing l'investimento in marketing fa da padrone cioè investire in consulenza investire in marketing ti permette di avere tutte le risorse di cui necessiti veramente lo dico in tutte le salse io risorse che arrivano anche da altri canali no se hai incrementato il tuo flusso di clienti privati l'oreca o l'export ok aumentando anche i margini di vendita gestendo meglio i clienti avrai soldi poi per approcciarti anche al canale di vendita online dovrai andare a fare magari delle modifiche sull'estino prezzo prezzi dovrai investire sulla vendita in cantina e questo ti permette notevolmente di aumentare i margini di vendita se incrementi la tua percentuale di vendita diretta al privato ecco che quelli sono tutti i soldi che poi potrai allocare per aprire il canale e-commerce ok quindi investi investi in marketing formati bene perché perché l'ignoranza costa di più della formazione e del marketing ok quindi rimanere ignoranti non in senso buono lo dico ovviamente quindi ignorare certi aspetti certe strategie certe tecniche e continuare come si è sempre fatto può costarti veramente molto molto caro vai a tagliare o comunque a rimodulare gli investimenti in fruttiferi devi andare a cercare di capire innanzitutto se hai degli investimenti in fruttiferi o comunque che non ti producono dei ritorni sull'investimento soddisfacenti primo fra tutti mi viene da pensare alle fiere ma questo perché non è un segreto soprattutto sono delle importanti voci di costo a bilancio per le aziende di tutte quante le dimensioni non sempre anzi in rari casi questi grandi costi corrispondono invece a dei risultati a degli incrementi di vendita soprattutto dei ritorni sull'investimento positivi proprio in termini di profitto oppure magari dato che appunto l'e-commerce è una bella opportunità evita di insomma andare ad investire troppo in immobilizzazioni ovvero in investimenti che invece sono molto meno liquidi quindi che ti bloccano un pochettino ma se non ne sto pensando per farti un esempio concreto a un nuovo impianto di vigneto cioè se sei in una situazione per cui ok non hai investito ancora in marketing inizia prima a pensare ad aumentare magari i margini di vendita aumentare i tuoi prezzi prima di andare ad acquistare ad affittare a fare quello che vuoi con dei nuovi con dei nuovi terreni con delle nuove vigne ok perché quelli lì sono investimenti che ci metteranno più tempo a darti dei frutti dei risultati se c'è un nuovo canale come l'e-commerce magari su cui investire ecco che magari potrebbe essere più importante dare la precedenza e la priorità a quello ovviamente se non hai già tutte le risorse a disposizione se hai già delle risorse per invece portare avanti tutto quanto insieme chiaramente lì non ci sono non ci sono problemi e poi ovviamente il consiglio che ti posso dare è quello di cercare di fare un po' di di ricerca fare un po' di scouting scouting per intercettare finanziamenti ed agevolazioni per partire con il commercio online perché è possibile come abbiamo visto prima che nell'ambiente esterno ci possono essere queste opportunità quindi magari ci possono essere dei bandi dei fondi che vengono stanziati per aiutare proprio le imprese i produttori di vino che decidono di affacciarsi e di investire in questo nuovo canale di vendita io con questo chiuso spero di avervi dato una panoramica importante di ciò che significa fare e-commerce di ciò che è l'e-commerce intanto oggi in Italia per quanto riguarda il vino e di quelle che sono le tappe fondamentali per approcciarsi a questo a questo strumento il discorso poi si può approfondire veramente ancora in tantissimi modi cioè come deve essere fatto un e-commerce a livello tecnico quali plugin ci possono essere sopra quali strategie si possono adottare di spedizione di presentazione dei prodotti e via dicendo ma in realtà tutto questo viene solamente dopo se non c'è la materia prima se non ci sono i clienti se non c'è una chiara strategia e visione di marketing non è il canale di vendita che cambia e che ti permetterà di raggiungere risultati quindi io spero diverti dato innanzitutto delle informazioni importanti su ciò che riguarda l'e-commerce e la vendita a distanza di vino averti dato degli spunti su cui partire per produrre già da domani dei risultati concreti sia in tempi normali sia in tempi ahimè di coronavirus e di averti dato quelli che sono i prossimi step e soprattutto la modalità con cui approcciarti ai prossimi step quindi per questa lezione è tutta ci vediamo alla prossima dove parleremo di packaging strategico di wine packaging quindi tutto ciò che riguarda il diciamo la confezione esteriore del prodotto vino e come questo va magari ad influenzare anche le vendite e i consumatori i clienti quindi ringrazio ancora tutti quanti voi per l'attenzione e vi ricordo che questo ciclo di formazione è stato creato e progettato in collaborazione visto diciamo collaborare da una parte e dall'altra wine marketing italia wine me up ci vediamo alla prossima ciao